ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video siamo su e giornitologi pronti per una piccola partita voglio farvi vedere un po come gioco se e se vi piace il gioco come dire potrò qualche altra partita quindi ci vediamo sulla mappa siamo aderossi in questo gioco di contare soprattutto in una posizione del tuo insediamento iniziale tipo qui questo è un ottimo luogo per insediarsi come potrebbe essere anche qui però è troppo lontano quindi mettiamoci qui abbiamo cibo la miniera e legna quello che ci serve per sopravvire e delle cape va bene ok in cibo e qui anche quindi la pesca o buono abbiamo un luogo molto ampio per costruire bene adesso iniziamo costruiamo il nostro tempio bene anche qui voi andate a costruire il nostro porto questo è un mercato per sopravvire e delle persone che non sono tutto un MC iniziale bellissimo poll failure bellissimo 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 il questo è un nonno Ora, possiamo fare solo 5 navi da pesca, sono nell'età italica, quindi nell'area in cui tu non puoi fare un cazzo, ma proprio niente quasi, a parte di costruire mira e fare qualcos'altro, i porti, i magazzini, i granai, questo si, però a parte quello, ovviamente si c'entra più gatto sull'economia, dobbiamo costruire le case, si costruisce solo 10 case, quindi bisogna scegliere attentamente, mettiamo da questo lato qui le case, almeno che fa un più tempo, mettiamo queste caverne del Magrebo, che giù offriranno un flusso mento e costante d'oro, possiamo già migliorare qui, noi abbiamo un granaio, costruiamo, più abitanti facciamo all'inizio, meglio è, perchè possiamo gestire molto di più, più facilmente, ho messo la velocità fulmine, perchè mi scoccio di aspettare 10.000 minuti per avere un abitante, sono che siete d'accordo con me, possiamo scegliere, ci sono tre, arcaica, classica, no, aspetta, arcaica, classica, eroica e mitica, no, quattro, e si può scegliere tra due dei, Atena, della saggezza e della guerra, e Ares, della battaglia e del massacro, Atena migliora la difesa, Ares l'attacchio, voglio aumentare l'attacchio, facciamo bene le sentinelle, che Ade ci offre generosamente dall'inferno, addestriamo un eroe, a Yace, e andiamo a prendere le nostre eliquie, che non sono nostre, NPD, 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 che come dire, ne prendi tutte quante aspetti 200 anni e vinci, no, qui ogni eliquia ha un proprio bonus specifico, mentre tipo questo, aumentano l'obustezza delle mura, quindi ci può scegliere, aumentiamo qui con un alato, qui con un attimo, questa qui, ok, allora, miglioriamo, miglioriamo le tecniche, qui, dei magazzini, pro stagmato, pro seche, malista, caserma, come con l'ultimo di tiro, e questo, ne ho appena anche il erenico, che fanno sapere qua, dove hanno? va beh, questo erenico che abbiamo preso è molto importante, perché in caso a me ci attacchiamo, ci potrebbero attaccare gli amici, però, la l'obustezza delle mura, è molto alta, quindi, finché non ci distruggono, le mura, ci muoverà un po', ci sono presi le pecore, come del mio amico, va bene, cos'è questo? maggiore l'istenza dei sondati, gli attacchi con armi da lancio, ah, quindi, i frombolieri, i pentasti, gli arcieri, tutti quelli che ci attaccano, con questo tipo di armi, come dì, subiscono me, vanno bene, ora però voi poteste chiedere, perché ho messo una mod, che aumenta la difficoltà, perché, o cazzo, ma, a caso, completamente a caso, signori, gli atlantidei ci attaccano, va bene, completamente a caso, eh, vai bene, va bene, 你 čia è proprio, buono che ti attaccano, non c'è problema, malice, es pros tagliare, cosa è successo, rosa, orło, es mahi, è, è, le gre, ritori, Va bene, ok, facciamo delle mure anche qui perché voglio oro, li difenderò non, no, no! ... ... Più? 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 ... ok abbiamo sventato l'attacco dei mezzi, qui dobbiamo assolutamente metterle nelle fortezze perché il nemico potrebbe attaccare il nostro centro città qui i nostri duecento città sono anche convergati da questa strisce di terra tu puoi tornare a pregare tranquillamente andiamo in età mitica giriamo qui, qui, qui e anche qui l'Orebon Man serve quando tipo a Iace, per fare un esempio, sotto questa trofe l'atome può attaccare il personaggio, in questo caso il soldato quindi l'unità che sta sotto il funzione dell'abbondanza serve per avere le risorse ecco, è timi, questo, malestà stacca da veneris, tutto qua non... però se chiede, guarda come costruisce i suoi palazzi beh signore, pensi che sia giunti il momento di attaccare beh, non vedo perché no, visto che abbiamo tutto sviluppato al massimo attenzione va bene, allora, iniziamo facciamo una decina di opponenti quattro Toxtrotes e cinque Dastrapetes che sono efficaci, spero che si dica così che sono efficaci contro anti-alcieri e costruzioni no, sono inefficaci contro anti-alcieri e sono efficaci contro le costruzioni e sono gli alcieri di Ada quindi ogni Dio ha una propria unità specifica adesso il Poseidone ha... gli ha... gli haato... gli haato... gli haato come... come si dice Zeus e i miei Midoni i miei Midoni e noi qua abbiamo i Dastrapetes Per il momento non vedete se si deve cacciare ah, non è stato un Poseidone ok, andiamo all'attacco e comunque adesso potrebbero andare a mangiare qua questa acqua c'è tutto a posto se ce la fa sopravvivi ecco proprio prendiamoci adesso li distriare però stanno qua siamo sgranati in questa linea se ci sta si mi sono state la chiesa sono state non è stato un po' ci sono state ci sono state sono state se ci sono state se non se ci sono state L'attacco agli atlantidei è iniziato, signore. Che succede? Che succede? Bene, signore, si inizia a fare sul serio, ormai. Siamo scocciati di questi atlantidei infani. Andiamo a costruirci sopra. C'è una pestinenza. La cosa serve la pestinenza? Non ti fa recluta gli uomini. Quindi adesso è proprio il momento di attaccare. Muori, nulla, effettaci. Il conosco si è salvato in una maniera più bellissima. Grazie. vai Tzio lege smakhi calos lege calos è timos è timos lege è timos pro stagma calos lege est malista malista abbiamo anche il medico che può venire ritarneate però però no questo simbolo crea sempre o quiddi o quiddi fino alla morte questo è un benissimo tempo perchè si bloccano e mi trova niente non ho capito è molto agliace vabbè il dio primario cioè il dio primario che arriva è ovvio è che andate ciclote che è che è è è è è chi è chi è chi è c'è lege è calos lege es ma è se li studiamo il centro città gli atlantidei si arrenderanno perché non ci sono più altri centri città disponibili quindi gli egiziani hanno anche distrutto gli atlantidei insieme a me prendetevi non si attenzione a prenderanno sono capito perché scoppiamo perché hai tanti dei per il nuovo attacco di prima contro le mie mura qui però in teoria c'è un centri città disponibile quindi potrebbe comunque costruirsi su questo disco io forse se la vendevano perfetto questo è una nannissima caserna proprio il no qua no perché è proprio vittorio morte va bene ok si è proprio aspetta fermo tu visto che abbiamo fatto così tante uccisioni possiamo mettere un'escenza ah no è ancora troppo qui si è successo ok ok qui us all'unico ciclo avanti c'è un bel manipolo di uomini attaccade anche qui che succede stanno perdendo male perchè un figlio di iosidi non fa come annibano e se ne torna indietro devi per forza attaccare un picco a me sto proprio disgraziato a domo ti faccio a pezzi batti da cibo fino a così può evitare qualcosa facciamo a pezzi ah proprio attacchiamo senza pietà questo è incoraggio greco signori il figlio di iosidi è morto abbiamo aiutato abbiamo aiutato i 11 a sopravvivere lo abbiamo perduto pochissimo c'è una fortezza qui questo è il figlio di uomini è un figlio di uomini Il giudizio è proprio una bambina attacca I città costruite è per me Vesco 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 Perfetto, attacchiamo anche questi, tanto chi se ne frega. Tutti gli uomini all'attacco. Sono tutti spartagliati ormai. Dopo una vittoria del genere contro gli Atlantidei, c'è un mondo da festeggiare. Questo qua che si può a casena. Tu queste qua non dà niente, costruisci. Vuolomè, vuolosismo. Luolosismo. Prozostagmè. Malista. Luolomè, automatico. Ok, il figlio di Dio si chiede è morto, possiamo farci Dov'ai tu, donna! Tutti che ti mochi sempre Non v'è bene! Lige... ... con un progetto? Ma questo è un progetto. È stato un progetto! È stato un progetto! lei ok i nordici sopravvivendo 300 perfetto perfettissimo è molto fermo tu fermo è ultimo non è la montera qui vabbè anche i caduti in battaglia signori la vittoria è vicina molto vicino anche questa vittoria anche questa partita è vinta non c'è dubbio 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 signori abbiamo vinto abbiamo distrutto gli atlantidei qui e qui e gli egiziani qui in questo luogo mi sono scordi di portare una vita qui abbiamo aiutato i nordici a sopravvivere dopo un duro attacco di osiride sono riusciti a sopravvivere questo è il nostro impero bene bene signori vediamo un po i risultati ovviamente il punteggio tale è il mio stand un'economia mia tutta mia tutta una delle belle idee ho fatto tutto io l'idea di solito ha fatto più medicina perché ha attaccato soprattutto gli ordici ho perso molte unità ho perso zero costruzioni mitologia vabbè noi va bene bene signori abbiamo vinto spero che vi sia piaciuta questa partita questa battaglia nel caso vi sia piaciuto mettetevi un bel mi piace ditemi se volete anche episodi su geof mitology e niente noi ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao